Ci troviamo a Fondaghello di Mascali, stasera evento culturale nell'estate mascalese 2018. L'evento culturale è che ha ad oggetto Mascali la città di fondazione fascista. Verrà presentato l'itinerario storico e culturale attraverso le opere architettoniche più belle del paese ricostruito di Mascali. Relatori, stasera l'architetto Giussi Stagnitta, il giornalista Nino Amante, è organizzato dall'associazione Mascali 1928, è il patrocino del comune di Mascali nella persona del sindaco Luigi Messina e dell'assessore Alberto Cardillo. Leonardo Vaccaro, presidente dell'associazione Mascali 1928, da cosa nasce questo progetto? Perfetto, possiamo partire da una data ben precisa, l'11 agosto del 1937, quando a Mascali si ferma il capo del governo Benito Mussolini per vedere la città di Mascali. Come mai da Messina fino a Catania l'unico centro in cui si ferma Mussolini è proprio Mascali. Questo perché? Perché era stato Mussolini a volere la ricostruzione della città di Mascali in sostituzione di quella vecchia distrutta dall'eruzione lavica del 1928. Quindi parliamo di una città nata interamente negli anni 30, secondo i criteri dell'architettura del ventennio fascista, alla pari delle altre città ormai conosciute e valorizzate, fondate nello stesso periodo, come le città dell'Agropontino, Latina ad Aprilia, a Sabaudia, o altre città anche in Sardegna come Carbonia. Mascali fino ad oggi purtroppo è sfuggita all'attenzione degli studiosi, e ancora oggi non è stata valorizzata per questa sua peculiarità. Per cui questo progetto intende portare Mascali, la sua architettura, all'attenzione dei visitatori, dei turisti, ma soprattutto del mondo accademico. Architetto Stagnitta, stasera relatore in questo bellissimo progetto storico-culturale. In che cosa si esplica questo progetto? Quali sono le tappe? Di cui lei sarà una dei protagonisti principali? Il percorso culturale si tratta appunto di un percorso, di un circuito fatto all'interno dell'impianto originario della Mascali di fondazione, in modo da vedere più da vicino le nostre architetture, le architetture sia pubbliche che private, e soprattutto notare le particolarità delle architetture private che secondo me finora sono state poco valorizzate e poco attenzionate. Soprattutto in questo caso, nel percorso che abbiamo ideato, le architetture private vengono proprio presentate attraverso i progetti originali dell'epoca, quindi i progetti risalenti al 1934-35, per cui ci ritroviamo ad avere in mano questa planimetria, questa mappa, dove possiamo fare in giro per la città il confronto tra l'architettura, come è stata progettata nel 1934, e la situazione esistente, facendo anche un confronto tra quello che è stato, quello che poteva essere e quello che in realtà poi è stato anche realizzato, perché spesso e volentieri il progetto dalla realizzazione costa di diverse modifiche, di diversi cambiamenti. Assessore Cardillo, questo evento culturale nell'ambito dell'estate mascalese, l'amministrazione intende valorizzare quelli che sono gli edifici del ventennio fascista, del secolo fascista. Questa è un'idea che nasce qualche anno fa da una chiacchierata con Leonardo Vaccaro. Parlavamo del fatto che Mascali, che piange purtroppo tanti pregiudizi, subiva e subisce tutt'oggi il pregiudizio di essere una città brutta, perché è una città ricostruita nuova e della quale si sconosce concretamente la storia. E allora ci siamo detti che dovevamo fare qualcosa per riabilitare giustamente il buon nome della nostra città. Ci siamo messi di buona lena, andando a spulciare il nostro straordinario archivio, perché il nostro archivio storico possiede delle ricchezze storiografiche e culturali notevoli. Abbiamo trovato una grande storia, fatta di sacrificio, fatta di caparbietà dei nostri antenati, fatta di voglia di rinascita di queste città. È una comunità che ha molto sofferto, quella di Mascali, nel secolo scorso. Ricordiamo la distruzione, ricordiamo il dolore di dover lasciare la propria casa, i propri averi, la propria azienda, i propri affetti. E quindi è una grande epopea quella della ricostruzione. Una storia che va ricordata. Durante il vendegno il governo centrale finanziò, volle fortemente, la ricostruzione di questo centro urbano. E Mascali, anche se è storia poco conosciuta e più, è l'unico centro urbano tutt'oggi abitato che vive di luce propria. E quindi creare questo percorso culturale per rivalutare l'urbanistica, l'architettura, l'arte, lo stile, il razionalismo, il modernismo, il futurismo e anche le linee classicheggianti che coesistono insieme a tutti questi stili, significa valorizzare una parte della nostra storia, riabilitarla, ma soprattutto creare opportunità di nuovo sviluppo. Ecco perché con l'amministrazione abbiamo deciso di far aderire Mascali ad Atrium, che è un'associazione internazionale di comuni, riconosciuta dal Consiglio d'Europa, che si occupa appunto di valorizzare le città costruite o ricostruite durante i regimi totalitari in tutta Europa, non solo in Italia. Tutte queste opportunità messe insieme ci danno modo di poter valorizzare la nostra città e di arricchire non solo lo spirito che è importante, ma anche il tessuto economico della nostra città. Grazie.